La fila è tornata a scorrere al lab vaccinale di Città Sant'Angelo. Nei giorni scorsi molti utenti si erano lamentati delle lunghe attese. Anche più di un'ora di fila al freddo prima di poter entrare. Il caos, ci spiega il personale del centro allestito all'Outlet Village, era dovuto alle prenotazioni. Fino alla scorsa settimana, infatti, per ricevere la terza dose non era necessario alcun appuntamento. Da lunedì, invece, l'accesso è consentito solo ai prenotati, ma in molti, forse per una inefficace comunicazione da parte dell'azienda sanitaria, si sono presentati di punto in bianco pretendendo il vaccino. Ad oggi la fila c'è ancora, ma scorre in fretta. Nelle sei postazioni del lab di Città Sant'Angelo ogni giorno vengono somministrati circa 1.500 vaccini, di cui 1.000 sono terze dosi. Oltre ai cittadini della provincia di Pescara, qui attualmente si immunizzano anche quelli della costa Teramana e del Chietino, e mentre per terze e seconde dosi occorre l'appuntamento, per la prima resta il libero accesso. Sono sempre di più le persone che vogliono immunizzarsi, secondo un monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 24 e il 30 novembre balzo in avanti delle terze dosi, che sono aumentate del 52,5%, per un tasso di copertura medio in Italia del 31,8%. Rimangono però 6.800.000 italiani che non hanno ricevuto nemmeno una dose. In particolare, evidenziato da Gimbe, preoccupano due fasce di popolazione non immunizzate, da una parte i 2.570.000 over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione. Dall'altra 1.160.000 ragazzi tra i 12 e i 19 anni, che secondo il rapporto, influiscono negativamente sulla sicurezza nelle scuole. Ad ogni modo, convinti o costretti dall'ultimo decreto legge del governo, in molti si stanno decidendo ad accettare la vaccinazione. Le prime dosi sono aumentate, in Italia, di quasi il 35%. Mentre prima somministravamo circa 30 prime dosi al giorno, ci spiega il personale del Lab di Città Sant'Angelo, da quando è stato introdotto il Super Green Pass, ne stiamo inoculando oltre 100.